La consigliera regionale di parità Mimma Lomazzo lancia il sasso nello stagno. Ai partiti e ai movimenti che prenderanno parte alle prossime elezioni regionali chiede di assegnare ad una donna il ruolo di capolista. Si calcolano oltre 20 liste, 500 aspiranti per Santa Lucia in regione, per uno dei 50 posti in assemblea. La ripartizione avverrà secondo lo schema consolidato di una legge o un meccanismo elettorale che possono sempre riservare sorprese. Accadde cinque anni fa con l'elezione di un solo consigliere per Benevento sui due seggi previsti. Quattro saranno invece i consiglieri che verranno eletti in Irpinia. Difficile se non impossibile che i partiti accolgano l'appello di parità. D'altronde la legge elettorale tutela le quote rosa con la possibilità della doppia preferenza di genere. Stando al tema candidature nel PD avellinese, lo scontro si consuma invece al maschile. Tre uomini per due posti e la seconda casella rosa che potrebbe essere riempita soltanto l'ultimo giorno utile. Altro che valorizzazione delle donne. Ufficialmente convocati i comizi elettorali, il 20 e il 21 settembre si voterà anche per le amministrative. In Irpinia la competizione più attesa è ad Ariano. Le amministrazioni comunali da oggi hanno divieto di pubblicità istituzionale. La campagna elettorale sarà sui generis. I comizi in piazza non sono vietati al momento, soggetti tuttavia alle norme sul distanziamento sociale e ai divieti di assembramento. Elezioni che al tempo del Covid potrebbero riservare tante sorprese.